Sono terminati i lavori di manutenzione al serbatoio idrico situato all'interno della fortezza Medicia che alimenta la città di Arezzo. I lavori sono stati realizzati da nuove acque nell'ambito della manutenzione del serbatoio e è stato concordato anche un intervento di alleggerimento del carico del solaio per mettere in sicurezza e rendere più fruibile l'area sovrastante. Si è trattato di un progetto piuttosto articolato perché la fortezza Medicia non presenta accessi adeguati per una normale gestione delle attività di cantiere. È stato dunque creato un complesso sistema di movimentazione del materiale mediante le installazioni di 50 metri di nastri trasportatori e di ponteggi sulle mura antiche. Utilizzando come parte integrante del cantiere anche l'area sotto le mura nella disponibilità della Fraternita dei Laici, Nuove Acque si è impegnata a riqualificare completamente la zona interessata andando così a valorizzare le antiche mura dell'anfiteatro romano, adesso tornato alla luce e dunque di nuovo a disposizione. Un ulteriore risultato raggiunto di comune accordo con la soprintendenza per le province di Siena, Arezzo e Grosseto. L'investimento totale è stato di 250 mila euro. I lavori sono durati due mesi e mezzo, il cantiere si è chiuso nei tempi previsti.